Ehi ragazzi rossoneri! Come va? Prima di immergerci in questa notizia bollente, voglio dare il benvenuto a tutti i tifosi del Milan che stanno seguendo il canale. Se non sei ancora iscritto, dai un'occhiata e iscriviti ora per non perdere neanche un attimo della nostra amata squadra. Andiamo al sodo! Il Milan non si ferma sul mercato e sta lavorando sodo per rinforzare la nostra difesa entro la fine di questa finestra di trasferimento. Il nome di Trevor Caloba sta guadagnando risonanza nelle discussioni. I rossoneri stanno pensando a una strategia simile a quella usata con Tomori per convincere il Chelsea, l'idea è proporre un prestito a costo molto basso e un diritto di riscatto più significativo, da esercitare possibilmente in estate. Proprio come è successo con il difensore inglese, ora elemento fondamentale a Milano. Lo riporta la Gazzetta. E voi, tifosi rossoneri, cosa ne pensate di questa possibile arrivata di Caloba nella nostra difesa. Potrà seguire le orme di Tomori e diventare cruciale per il Milan? Commentate qui sotto, voglio sentire la vostra opinione. Non dimenticate di lasciare quel mi piace se siete ansiosi di ulteriori novità sul Milan. E, naturalmente, se non siete ancora iscritti, questo è il momento perfetto per unirvi a questa famiglia rossonera su YouTube. Ecco, ragazzi! Restate sintonizzati per le prossime notizie e incrociamo le dita affinché il Milan faccia ottime acquisizioni. Forza Milan e alla prossima!